Sandra Fabris, Renata Gallio, bien y bien. Las margaritas se florecen las margaritas, todo el prato a la plena edad y alegría. Llevar bien, pasando por allí, ha reto emagado y en un son sur al dios. Hace un par de bon una maravilla que es rosutis. Y plazares tan diural a las margaritas, que bienes que son, invésite al cora platassi de un deschiasis. ¿Y yo soy bien, yo? Si domanda curioso. No lo sé, no me equivoco de mí, no soy convinto. Llevar bien resta allí, cruzado y un poco caliente. Si eres sentado en tantas manieras fin en aquel momento, rabioso, calmo. Dispetoso. Dulce. 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 L'aquilone non s'ha volato. Far fuorce. Al pensa Viem. Io voglio un po' di aia. Si mette sotto le panze dall'aquilone e lo porta ad alt su e io e ora puoi su. Allora il frutto ha detto e ha voce. C'è biel l'aia. Viem maravigliato i domande. Ma tu mi violi tu? Oh si. I dis il frutto. Tu s'es lì. E allora viem si chiale dai voi dal frutto che l'ha vedut l'aia sotto le panze dall'aquilone. Grazie signor Chiara mi prevedente in spietà. Ha dis l'aia sotto vos. Come viem a salire si biel. E domani tornara a feberà qulis margariturtis. Parintan al Sibile dut content sull'esplase. Cul frutto e cul soquilone. Grazie a tutti. Grazie.